Una protesta contro l'accordo integrativo delle coop sociali che porterà a un'ulteriore negazione dei diritti. Lo dice la Will FPL e la Will Tux Toscana che hanno proclamato questa mattina un presidio delle lavoratrici e dei lavoratori delle cooperative sociali in Largo Alinaria Firenze. Noi contestiamo un accordo fatto dalle cooperative toscane insieme a alcune organizzazioni sindacali e riduce notevolmente i diritti e il salario delle lavoratrici e dei lavoratori di questi settori. Avevamo fatto una trattativa di secondo livello, poi la Will, Will FPL e Will Tux era praticamente contraria a non dare premio risultato a alcuni elementi retributivi che il contratto nazionale invece norma. Le centrali cooperative non ci hanno più convocato insieme a CGL e CISL e ci siamo trovati un accordo integrativo che produce invece che ricchezza e miseria per i lavoratori. Non siamo d'accordo. È un'intesa che non risponde a quanto previsto dal contratto nazionale e che ha visto la palese stromissione dalle trattative delle organizzazioni sindacali afferenti alla Will Toscana. Dicono i sindacati, un gesto grave e inaccettabile. Quando si sono resi conto che con noi non era possibile diminuire sia i diritti che il salario ci hanno escluso dal tavolo di trattative. Continuerete a manifestare? Non solo, continueremo a manifestare ma nello stesso tempo abbiamo già dato avvio a delle azioni legali nei confronti delle tre grandi centrali toscane.